Felice Lotti, 27enne di Andrea, rischia 10 anni di carcere per il tentato omicidio di due persone avvenuto il 6 aprile 2021 in un cortile condominiale di via indipendenza a pochi passi da quella che sarebbe diventata la questura BAT ancora in fase di ultimazione dei lavori. Nel suo confronti è stato celebrato il processo con rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale di Trani a cui il PM ha chiesto la condanna a 10 anni di reclusione per tentato omicidio porto illegale di arma da fuoco, ricettazione e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Quel giorno Lotti avrebbe sparato ad un trentenne suo conoscente ferendolo a linguine e ad un suo amico che era con lui ferito di striscio alla caviglia sinistra. Il trentenne venne trasportato in codice rosso all'ospedale di Andrea e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. A distanza di tempo non sono ancora stati chiariti i motivi che hanno spinto il 27enne a sparare, forse di natura privata. L'indagato, dopo i fatti del 6 aprile 2021, venne rintracciato e arrestato dai carabinieri il giorno seguente a Biceglie, nonostante fosse sottoposto alla misura di sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno nel comune federiciano. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia ammise le sue responsabilità, negando però l'intenzione di uccidere i due soggetti, anche se una testimone ha raccontato di essere stata fermata dall'imputato che chiedeva dove fosse il trentenne, dicendo di volerlo uccidere. Secondo lo psichiatra forense nominato dal giudice, Felice Lotti era perfettamente in grado di intendere di volere, al momento della sparatoria, parere opposto al consulente della difesa. I suoi avvocati, Raffaele Losappio e Magda Merafina, hanno chiesto la riqualificazione del reato di tentato omicidio in lesioni personali, invocando il riconoscimento delle attenuanti, del vizio parziale di mente e della provocazione. La sentenza è programmata per il 7 dicembre.